Noi siamo molto contenti di fare questa esperienza in Calabria, noi siamo presenti già oggi in molte regioni anche del sud, siamo in Sicilia, siamo in Puglia da 25 anni e quindi per noi questa esperienza credo che sarà molto significativa, penso che potrà offrire a tutti i fornitori calabresi anche una grande opportunità di sviluppo al di fuori dei confini calabresi, quindi ci sarà la possibilità per tutti coloro che lo vorranno fare di poter entrare, di poter vendere i propri prodotti, all'interno di quasi tutto il territorio nazionale, per cui credo veramente che possa rappresentare un momento di grande importanza per la Calabria e per il nostro paese.